Allora, dove andiamo oggi? Alla Gorà Andiamo al compleanno di una compagna di Vanessa di Giorgia, alla Gorà dove ci sono un sacco di giochini E oggi la Vanessa va a fare un palestra ma non insieme Oggi è venerdì, ultimo giorno di scuola e avete tutti e due palestra, vero? Allora, andiamo che quando si esce si va a giocare E voi invece ce l'avete oggi una palestra Buongiorno cucciolini e cuccioline, come state? Oggi per noi è una super giornata sarà divertentissima perché andremo al compleanno di una compagna di Vanessa in questo posto bellissimo in cui ci sono tantissimi confiabili e ci si diverte veramente tanto E voi, che cosa farete questo fine settimana? Scrivetemelo nei commenti Comunque non vi preoccupate che ci vediamo dopo con Vanessa e Anastasia in questo posto magico Bene ragazzi, sono le 4 e 5 minuti tra pochi minuti vado a prendere Vanessa e Anastasia e ci dirigiamo verso la festa di compleanno E' arrivata amore Sei contenta? Sì E dove andiamo? Come boh? In città In città Ma te sei proprio fuori come una mina Ok, allora porto soltanto Brando No Sì sì Allora te ti porto in città e io prendo e andiamo a giocare E allora io lo voglio E allora dimmi dove stiamo andando No ma questa bambina Alla gola Ah ecco Andiamo a giocare? Cosa fai? Studi? Sì Vabbè Ci vediamo a lavorare? No non è vero Anastasia cosa hai mangiato oggi a scuola? Pesce E ti è piaciuto? Sì Ok siamo arrivate Allora io ho già scritto gli auguri Però mancano le vostre firme Ok? Come si va a strappare? Quindi la tua e quella degli altri tre bimbi Tu Giadina l'hai fatta a parte Perché tua cugina giustamente gliel'hai fatta a parte Vero more? Come si va a strappare? Non si strappa tesoro Si apre Adesso ti aiuto io No ho capito Ok? Mi raccomando sfrenatevi come non mai Ciao bambine Auguri Giorgia Grazie Quanti anni Giorgia? Dieci Mamma mia come stai diventando grande Allora se volete Quando vi siete cambiate vi faccio una magia Sì Va bene? Sì Volete vedere una magia? Sì Vuoi vedere una magia? Sì Cos'è? Anastasia? Vediamo noi Anastasia Allora chi vuol vedere la magia viene in bagno con me Io Andiamo? Dai Ora intanto vi devo dire che la magia è sulle mie unghie Ok? E secondo voi queste unghie di che colore diventano? Bianche Bianche Fucsian Bianche 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 Vediamo Vanessa se hanno ragione Io lo sai Aprite 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 Pronte? Se esce l'acqua calda Sentite Aspettiamo un attimo perché deve essere calda l'acqua altrimenti non vale Secondo me non arriverà mai calda No no è dall'altra parte Questa è fredda Proviamo lo stesso dai Qualc'è? Calda? Deve essere calda ma qui è ghiacciata Ok non possiamo fare la magia perché non c'è acqua calda Comunque avevate indovinato erano bianche Che brave Poi vi faccio vedere un video Anni dove vai? Vieni qui Anni Cosa stai mangiando? Pizzetta È buona Ho visto che hai mangiato un sacco di crepe alla Nutella Erano buone Hai visto che le abbiamo trovate? Che fortuna Adesso mangia piano se non la vuoi Ok vai a giocare Allora come procede? Procede bene? Gemelline? Allora ragazzi indovinate chi è Vanessa e chi è Gaia? Mia Scrivetemi nei commenti se lei è Vanessa e lei è Gaia o viceversa perché sono divertiche Ma per me non ci assomigliamo No neanche un po' siete uguali Vabbè avete qualche differenza però siete molto simili Come va? Tutto bene? Vi state divertendo? Ciao amore Ciao Giulia Adesso te la do l'acquetta Cosa fai? Scrivi il tuo nome Brava Buone Brava Bravissima Ancora Girate girate piano Non fatevi male Attenzione a Mattia Che piccola Maestro Rondi Simans Chiamatemi pure me Rondi Lune di sera la tizia Brava Brava Tanti auguri a Giongia Tanti auguri a te e com'è amore? è buona finalmente la torta che la stavi aspettando poi andiamo apri i regali e poi andiamo perché stasera abbiamo gente a cena con chi? è un amico di papà è un amico di papà amore non lo conosci dai finisci la tortina ciao amore lo so mi dici se è buona anche tu? si è buona lo sai già? hai già assaggiata? è buona bene adesso la mangio anch'io allora buona puoi mangiare qua? si va bene mangio con voi ok? ok ragazzi la festa è finita adesso stiamo tornando a casa ci siamo tantissimo divertiti abbiamo saltato, giocato fatto di tutto e ci vediamo dopo a casa ciao mi sono tornata a casa e non troviamo Gasper dove è Gasper? è questo guarda che magari è su Vane non credo proprio secondo me è su più che giù quindi Vane chiamano a Gasper a Gasper ma come non c'è Gasper? dov'è Gasper? chiedi a papà ah è vero chiedi a papà se c'è Gasper giù giù no non c'è con l'albero abbiamo eh dai ma scusa infatti ciao amore dove sei stato? ci sono chissà da quanto tempo era chiuso poverino vieni qua amore mi hai chiuso la tua vai li vedi le unghie mamma che le hai fatte? eh ho rifatto le unghie mi piacciono cambiano colore sono magiche vuoi vedere? si adesso posso farti vedere perché siamo a casa vieni ok volete vedere? guardate l'avete visto? guardate bellissime bianche se le metto sull'acqua 30 ritornano al giù guarda sono magiche amore sono magiche ok bimbe mi vado a cambiare a lavare anch'io voi vedo che vi siete già cambiate e lavate bravissime perché in quel posto c'è un po' di polvere e niente dai che sta per arrivare l'amico di papà che dobbiamo cenare ok? ciao 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 a che cosa? a la cosa ma mi stai prendendo in giro? no ma la testa ti sei fatta male cosa hai fatto? cosa avete fatto? avete litigato? no e figurati sono andata a farmi una ma ho fatto questo non so e tu ti sei spaventata hai picchiato la testa? sì ma adesso ti sta uscendo un po' di sangue ma qua cos'è? è il sangue della testa no dai veramente non mi state prendendo in giro vero? ok Nastasia vai a prendere del cotone su il cotone però eh su su nel bagno su vai allora io sono andata a farmi una doccia sta per arrivare gente io lo sapevo vi ho portati alla festa vi ho portati a giocare sempre a litigare state ascolta ma questo è sangue ti sei fatta male? o è il sangue della testa? non capisco il sangue della testa e vai a lavarti la manina adesso ti pulisco ascolta questo è per struccarsi vabbè ascolta in bagno in questo bagno c'è sul mobile c'è il disinfettante verde mi ha portato la salvietta per struccarti ti fa male? ti fa male? sì sarà un tagliettino piccolo ma dove hai picchiato? contro il tavolo ah lì? c'è proprio così? sì il gatto è morto ah no pensavo che era sdraiato tamponati dammi dammi se faccio io madonna guarda madonna ragazzi sta per arrivare l'amico di papà la mano vai a lavartela non esce tanto sangue un pochino pazienza ok ti brucia un pochino dai ascoltami vai a lavarti la manina dai vai a lavarti la manina che qua tra colori e sangue non si capisce più niente vai a lavarti la manina one hour later amore come stai? un po' meno ti fa meno male amore? mh stai meglio? sì andiamo no dai un po' rosso ancora però va bene ancora un pochino rosso? sì eh? senti Ani dai eh la pensiamo anche noi come lei vero? uguale 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 c'è il il buco in testa? il taglio? sì no pochissimo poco poco ok? va bene tranquilla ascolta Anastasia concludiamo il video qua lasciamo riposare Vanessa perché mi sa che giù è arrivato l'amico di papà eh ok? se il video vi è piaciuto e anche se è finita iscrivetevi al canale e attivate la campanella e lasciate il pollicione in su però aspettate sì sì amore non è che ragazzi finiamo il video qua ciao ti fa male? adesso ti curo un attimo eh ciao curiamo Vanessa grazie a tutti